E buongiorno mi amate bussole, io sono Sabri, penso che ormai lo saprete e benvenuti in questo nuovo video dove finalmente dopo un sacco di tempo vedrò mia sorella e verrà a trovarci qui in casa Quindi aspettiamo che ci trofoni, mi ha scritto che è qui sotto e vediamo se è arrivata intanto, intanto dopo possiamo spiare Ok, non è ancora arrivata, aspettiamola, intanto faccio un balletto amore Bello, bello, bello Non ti piace? Bellissimo Ok Eccola, 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 eccola Pronto? Ciao, ti vediamo No, aspetta, voglio premere il citopono No, perché non devi dire qual è il cognome, perché sennò poi ci trovano Infatti ho detto voglio premere il citopono Eh, dovrei mettere giù la chiamata, quindi sali Mi hai portato quella roba che ti ho detto di portare? Sì Se immagino Prova? No, non si è aperto Aspetta, lascia, molla la mano Prova ora No Spingi No Fai un salto No, è che è che l'ho chiuso, aspetta Ma cosa sta succedendo? Ma non si apre la porta, vai No, no Ora sì È la forza magica Anichi all'otto Ottavo No, è che si rifiutavano di farla entrare Adesso vede che c'è il cartello così dove io non posso entrare, questo che cane ce l'ha fatto di Nicole Comunque, apriamo la porta, vediamo se sarà felice di vedere la vostra casa Sì Fai vedere chi è Cerca, cerca Cerca poco Da quel ascensore o dall'altro Cerca Ma perché corre non abbiamo con Zerbino? Ton, 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 ton Sta arrivando Chi è? Chi è? Oh mio Dio, chi è? Oh mio Dio, ciao Che felice che sono di vederti Sì Che gioia Ciao 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 Ti ho portato il regalo Ciao Marco, mamma mia, ma che bello Beh, allora cosa sta succedendo? Perché? È wrestling No, è che questo qua gli ho alzato la mamma ieri Che è venuto a prendere i cordon blu e il pane che ho fatto Io ero buono il pane? Sì, molto Ciao, questa è la nostra casa Adesso sfogliate che la faccio vedere tutta Come è felice, gogola Che è subito la pallina Prezzo Ma dai È in testa Allora Vabbè, è un po' che non vedeva mia sorella E non è cambiata per niente, è sempre scema Allora, dove la appendo? Dove gliela appendi, esatto Quello, questo qua è il nostro ingresso Come puoi vedere, qui sono un po' di scarpe mie E queste qua sono scarpe mie Devo togliere le scarpe? Ma un po' di tenerle o togliere Quanto dura questo room tour? Eh, togliere perché se non da qua a far video dopo No, perché devo fare la cacca dopo Schifo E gli servono le scarpe per farla No, cerchiamo di fare il room tour velocemente perché mia sorella deve andare a fare la cacca Room tour? Room tour? Room tour? Room tour Allora, Nicola, la prima cosa che ti faccio vedere è la nostra cucina Cavolo, Nicchi, dovresti venire un giorno a mangiarci una pasta al ragù qui Sono molto brava a fare la pasta al ragù Buona Buona Un po' pulita Se senti delicata Gina è perché ho pulito con il Cif Che salutiamo che ci segue sempre Signora Cif, se mi stai seguendo vuoi mandare un po' di cif Mi lascio la mia casella postale Ma arrivi in descrizione Invece la farnata invece E poi ho cucinato la pasta al ragù, vero? Ho cucinato la pasta al ragù, esatto Allora, qua c'è il nostro frigorifero con tutte le calamite Bello Tra l'altro, veramente, in descrizione c'è la nostra casella postale Quindi se volete mandarcene una Potete mandarcela, non la attaccheremo col pacchetto La Nicchi ha fame Ha fame Voglio vedere Ok Questa è il congelatore e questo è il frigo Ok Ma questo è una stendina verticale Questa l'hai preso all'Ikea Brava L'ha vista l'altra volta Brava per estendere i calzini Abbiamo preso anche quell'orologio lì Dove l'hai preso, amore? All'Ikea All'Ikea Ma sembra quello della mia classe È quello della tua classe Quando andavo a scuola dieci anni fa Esatto, è quello lì Poi il tavolo che abbiamo preso noi, ti ricordi? Come sono le semi? Bravissimi Non scivoli, vero? No, non le abbiamo preso quelle, eh Però non si sceglie Però comunque non si scivola Questo è il mio miglior amico Ho battuto Andre Cioè lui ha battuto il bimby E tra l'altro nei prossimi giorni arriva anche un altro pezzettino il bimby Ce ne sentivamo il bisogno Perché ho comprato il bimby friends Perché così mentre questa cucina Beh scusa, come hai fatto a fare Gordon Blue? Cioè ti ha fatto la bispecca? Gordon Blue soprattutto No, la bispecca l'abbiamo fatta a mano Lui ha tritato, ho fatto E poi io ho fatto a mano E poi ti faccio vedere Ti faccio fare una ricetta Ok Le facciamo fare il pane A 200.000 like 200.000? 200.000 like Mia sorella mi regala il bimby Wuuu Vabbè va bene 200.000 like Se ne frega Questa è un'altra carta igienica Bello Che Tra l'altro noi a proposito di carta igienica abbiamo ancora la sua Che non ha voluto prendere quella volta No, no, fermi No, no Da zitta Mi raccomando ragazzi Voi dovete essere orgogliosi della vostra vita Di essere voi stessi Non vi vergognate di niente Questo è un suo tiktok Una sua storia Volevo dire cosa Il giorno prima La Nicole Ha comprato con me Questa carta igienica all'Ikea Andre l'ha accompagnata a casa E lei ha lasciato la carta igienica in macchina Perché davanti a casa sua C'erano due ragazzi E non voleva farsi vedere con la carta igienica Ma mi raccomando eh Siate sempre voi stessi Ma alle 11 di sera torno No, 10 di sera torno Con in mano una carta igienica Pensate che non cagli Ma pensate L'hai detto anche in questo video Ma che cagura questa Sei uscita a posto per comprare la carta igienica Vabbè comunque Ha ragione Niente questa è la zina graffi Questa è un po' la mia insola Questa parte qua Si vede anche nel video Vedi pacman Questa qua non l'accendo perché brilla troppo Si illumina troppo Questa qua è il porta incenso Quello mi ha regalato Andrea Diciamo frusagli che ci prenderanno una viola Questi sono dei giochini stupidi Bellissimi Bello I sacchetti E' bello Che non posso toccare Alessi mi hai detto Quindi Lì sotto Ah sotto non possiamo toccare Non so perché Io so toccando Tu puoi caldo Allora Aspetta che accendo le luci Così guardi ZANNO No no ZANNO Il nostro parente Com'è bello illuminato Sei pronta? Si Ma perché una è più Cioè tipo due sono fin Perché sono diverse Perché non potevi prendere quattro uguale Perché sono fatte apposta Una ha una luce diversa E una ne ha un'altra Non è vero Semplicemente ne avevamo due due Quindi Non volevamo spendere soldi inutili Ne avevamo già due Questo è il tavolo Che diventa gigante Quando viena fare le challenge E lei è Creamy Quella sorda Che puzza Ciao Creamy Ciao Creamy Si Mi senti Ma che senti? Senti solo le vibrazioni Ok Ok Questo è il divano nuovo Se vuoi provarlo subito Non le piace Ah già Lei ha visto una foto E ha detto che non le piace Bruttissimo Dimmi cosa c'entra in stacato Sto divano Dimmi cosa non c'entra Boh Io l'avrei preso di un bel bianco Oppure Ma non è questo colore Panna scaduta Cioè capisci? Panna scaduta Io la picchio Spero che ti faccio stendere i panni Ti faccio stendere i panni Gogo Stendi i panni Cosa fa? Stendi i panni Prova Stendi i panni Devi cantarla No Non andarla a prendere il gatto Vabbè questo è il nostro divano La Immobile con la televisione Un po' di ciaffrotaglie mie Poi Questa parte qua è di Ale Si Lo so L'avvontato Si Questa è la tua E questa è la vostra Si un po' in comune No no di me c'è solo quello però Poi i medicinali Si Poi le candele dell'Ikea Si E poi Queste profumano un sacco Davvero Allora dopo le apro Ma non le senti? C'è la plastica Si si sente attraverso la plastica amore Si sente Si sente un sacco Andiamo avanti Andiamo Qua c'è la lavanderia Dove qui Per terra fa la pipì Gogo Bravo Gogo Bravo Perché Ale lo porta giù Però se gli scappa anche di notte Lui la può fare sia qui che in camera La lavatrice asciugatrice Belle Prego Nella stanza di Ale La esplicherai tu velocemente Aspetta che non c'è fuoco No aspetta Aspetta Acceso Riproviamo Riproviamo da cà Aspetta che chiudo Ok aspetta che io faccio finta che avrei Va bene Tu taglia eh Mi faccio un po' desiderare Ok aspetta Avanti Posso È permesso Wow Ciao Ciao Bevenza Nella stanza Wow Questi sono dei Lego Vedi Aspetta amore Devo mettermi il dolore Un attimino Oddio Io lo metto Io lo metto Io lo metto Scello Cioè praticamente se io faccio così Crolla tutto Si tutto Posso provare No Ma delle tende No no mi piace essere cieco Wow Vedi questi due incubi Siamo io e Sabrina Ma non so lego questi No Chi è che li ha fatti Io Sabrina Solo che per adesso mi sono Mi sono impegnata un po' di più E infatti io adesso è più carino E non avevo il film Del colore giusto Comunque Devi dare un voto a questa stanza Da 1 a 10 Si E perché proprio 10 Allora 9 meno Perché? Dai una spiegazione Allora 10 non ci arriva Perché Non lo so Perché non ho fatto le strisce sui muri Non mi piacciono i nego Vabbè Siamo tutti dagli 3 Però no 9 meno E vabbè 9 meno perché è mio amico Apprezza lo sforzo lei Giusto Brava Posso provare la chitarra No un po'? Vai Voi fai una canzone Dopo te la faccio Io gliela faccio sempre Vi faccio l'outro del video Si Ti amo Si Speriamo sia di famiglia Questo talento musicale Alexa Chi è di sabri Questo è il mio regno Come puoi vedere Ma Alexa cosa ha fatto? Alexa ha ceso tutte queste cose qua Alexa spegni i sabri? Alexa ti andi i sabri? Ma vedi anche tu un uccello Continua la passata Ok allora Ne hai presi su Shane No Ne ho pagati 10 euro Uno su Amazon Ah ok A proposito mi hai portato quella cosa che ti ho chiesto? Si Dai portamela Perché dovete sapere che Ho chiesto Ho chiesto a Nicole Di portarmi un suo oggetto personale A cui tiene Per metterlo Nella mia patata Un cavallo? No ti prego Non un cavallo Ha portato un cavallo Ti prego no Oh un portaconfetti No l'ho vinto io con tanta cura Sarai arrivata quarta Ma che bello Prima Allora concorso Ipico salto Stoccoli primo classificato Prima Eravamo in due Lei e il suo cavallo L'ho spaccato L'ho spaccato L'ho messo qui perché Ti ho messo nel mio mobile Importante Per ora sei solo tu Però si deve vedere Si vede benissimo Ok Va bene Sì no va bene Dai Ok questo è tutto un po' di C'è un frusale che mi hanno comprato anche insieme in Giappone Non so se ti ricordi quanto ho parlato in Giappone Si me lo ricordo Qua è una roba degli origami Che se vuoi ti posso fare Sì bellissimo È molto bello Dove te lo faccio fare Questi sono tutti i miei mobiletti Che in realtà Sei la prima a cui lo dico Questo tra una settimana si toglierà Il quadro Sì perché qua ci sarà un led gigante Con la mia firma Che si illuminerà di rosa Cioè tipo quello che c'ho in camera Con il fulmine Esatto però grosso così Questa è la mia firma Wow Sì sarà bellissimo Questo è il mio letto Quando vorrei venire qua a dormire Sì tanto ci fanno sempre la pipì sopra i gatti Non è vero Non volevo provarlo Volevo solo spostare il manfrotto Ma no Questo qua adesso non te lo faccio vedere Ma è l'oggetto che utilizzeremo nel video Che faremo dopo io e te Che bello La tenda Abbraccia questo No puzza di pipì sicuro No No È buonissimo Ma perché devo abbracciarlo E' sa di fragola E' lo sa abbracciato di testa Ho capito ma ce l'hai da 12 anni Non profumerà No l'abbate premire No l'usa l'usa E perché devo abbracciarlo All'usa che sa ancora di fragola E' quello che Gogo si usa per Ah è vero è vero I miei zaini Il mio tiragraffi di gattoni L'amaca Stavo per dire devi comprargliela Poi mi sono ricordata che tu non hai i gatti No Ovviamente questi led cambiano colore Ho messo un po' di quadri di Ma ci sono leggiata cos'è Tin ton Tin ton Tin Tin turn Piano 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 Mi sei stupida Poverino Tin ton Tipo così Non hai gatti Non è abituata con i gatti Alexa ti voglio bene Grazie Grazie del tuo Un Due Un Due Tre Un Due Ma siete portati È di famiglia vedo Giro Muove un po' così Brava Sarò sempre qua Ma che cos'è? C'è il bagno dei gatti Quindi lo posso usarlo io per cacca Si puoi Si che puoi usarlo Un po' freddo No voglio un bagno più Io voglio fare Aspetta perché lì sarei la prima a vederlo Guarda questo specchio tra l'altro Cambia colore Si illumina Ci puoi fare un tiktok Ti puoi fare un tiktok Ti puoi fare un tiktok Dopo faccio un tiktok Perfetto Si Andiamo avanti Sei pronta perché Sarai la prima a vedere questa cosa Vi ricordo che non si può toccare in alcun modo quella a fare Perché se no È rimasto incastratto nella gattaiola Perché non sei il gatto Non so come Il balcone con una fantastica vista Su armadio grande Questo è il nostro letto Con questa camera che impicciamo molto a ponte Vi ho messo un armadio lì Come puoi vedere Dove? Lì Ma sei pronta al pezzaforte? Si tira su Ah no Ah beh sì Quello sì Non toccare per non in alcun modo quella a fare Capito? Il bagno dei gatti è nuovo Wow Ah non è nuovo Che è arrivato proprio Eee Wow Bello Che ne Oh 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 Qualcuno Muore Ti ho da mettere qualcosa Rimbomba Wow Ah Wow Ah 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 Però mi sono dimenticata di vedere Un punto da fare un voto alla mia stanza Ah Guarda quanto è ordinata Ah Sì Sempre ordinata e pulita Sì Sì dai Sì dai 9 più Ma è Ah Ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho vinto Perché è molto luminosa, mi piace C'è una cosa, avevi promesso che prima di far la cacca facevi l'outro per a Chiara Quindi vai bene a Chiara Oddio, se distruggo qualcosa, Pica, non è colpa mia? No, è colpa tua se distruggi qualcosa Tu suoni o canto, eh? Ma non ce l'hai, lo splettro? Pronta? Eh, spero che l'accordo E cin, sei, set, pa! Stendi i panni, stendi i panni Stendi i panni, stendi i panni Asciuga Ma come fanno le persone tipo, cioè, allora io tocco questo, no? Ah, io sto schiaccio qua, tu fai quelli Asciuga, il sole asciuga Asciuga, il sole asciuga Chi la vuole, la bella verdura Chi la vuole, la bella verdura Bau, 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 bau Fido Facciamo il re Brava Grazie Era il re, amore Sì Davvero? Davvero? No Ah, ecco Vabbè, comunque ho detto questo Vi è bella Mi piace a casa tua, va bene Dai, ci sta, ci sta Grazie La Nicole deve provare degli oggettini Vi faccio vedere qua in anteprimati cosa sono Cosa sono? Cosa da giro? Ah, vi frustate Quello che praticamente fai così Esattamente, la slackline La slackline Quindi, rimanete sintonizzati Ma mai Che nei prossimi giorni ci sarà un video bellissimo Ma anche sul tuo canale Forse te l'avrà già uscito probabilmente Quindi se non avete visto il video di Nicole Deva Nicola Andate a vederlo E vi mandiamo un bacio grande Che posso andare a fare la cacca? Sì, però ti dirò cantando Vado a fare la cacca Che schifo Bello Puzzolente Nel bagno di pica Vomito Ciao Pronto Spero che i genitori vostri N'hanno appena guardato questo video Ciao